Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito, usuale, consueto, classico disordine della mia libreria. Allora, allora, cari signori, qualche giorno fa parlavamo del G55 Centauro, parlavamo dei, come dire, problemi costruttivi anche dei nostri aerei, del costo delle cellule, parlavamo anche dell'interesse tedesco per il Fiat G55. Allora, come ben sapete, i tedeschi non apprezzarono le qualità di volo del G55, ma furono molto meno entusiasti di che cosa? Furono molto meno entusiasti della complessità della cellula del G55, della complicazione costruttiva del G55, che era oggettivamente un grande caccia, ma soffriva gravemente dei limiti produttivi della nostra industria. Perché complicato com'era, barocco com'era, perché oggettivamente la struttura del G55, per quanto meno arzigogolata di quella del Machi 202-205, era pur sempre un piccolo capolavoro di complicazione, perché era una struttura, diciamo, robusta, una struttura resistente agli sforzi bellici, ma era anche una struttura, soprattutto quella l'are, dannatamente complicata da costruire. I tedeschi scoprirono che, come ho detto più volte, i tedeschi scoprirono che per costruire un singolo G55 si spendeva in materie prime, tempo e, diciamo così, soldi, l'occorrente per costruire tre Mesh Smith 109. Allora, però i tedeschi dissero subito ma fin dal 1942 i tedeschi fecero una proposta estremamente interessante ed estremamente intelligente alla Fiat, che però non andò in porto. Che cosa accadde? Allora, nel 1942, ah, dimenticavo, scusate, la fonte è questa dispensa di aerei nella storia intitolata Prototipi della regia aeronautica pubblicata dalla Delta Editrice nel dicembre 2007. Dicevo, allora, nel 1942 c'era stata la proposta tedesca per la Fiat Aviazione di affidare, dicevo, alla Fiat Aviazione la licenza di produzione del motore DB603A1 da 1750 cavalli. Allora, il DB603 era un motore, era però un motore da bombardieri, ok? Già all'epoca, cioè già nel 1942, però c'era, allora, mettiamola così, come ben sapete la produzione di, insomma, diciamo, la forza da bombardamento della Luftwaffe pian pianino perse importanza durante il corso della guerra dovendo dare la precedenza ai caccia necessari per la difesa dei cieli del Reich. Ok? Già nel 1942 c'era un eccesso di disponibilità di motori per bombardieri che erano gli eccellenti Daimler-Benz DB603 che erogavano l'ottima potenza di 1750-1800 cavalli che non erano mica pochi. Questi motori non potevano essere inseriti nelle piccole... Allora, mettiamola così, questo motore, il DB603, era troppo grosso per la cellula del Messerschmitt 109 e non andava bene per la cellula del Focke-Wulf 190 di il Dora, il Langenase Dora, avete presente? I Focke-Wulf 190 con il motore in linea YUMO furono usati quei motori della YUMO perché i DB603 dei quali c'era una buona disponibilità erano troppo grossi per la cellula dei caccia però i tedeschi la studiarono bene scoprirono che la cellula del G55 diciamo robusta ridondante anche come dimensioni poteva funzionare molto bene anche con il più grosso DB603 anche con il più potente DB603 da bombardiere motore da bombardieri e fin da subito i tedeschi consigliarono la Fiat di passare alla produzione su licenza del DB603 e di montare quel motore anche proveniente dalla Germania sulla cellula del G55 e di ottenere quindi che cosa il G56 questo aereo che vedete qua con le insegne tedesche dopo l'8 settembre 1943 e questo è praticamente il primo prototipo del G56 questo che vedete la matricola militare 536 e questa qui sotto che vedete qua sotto è un'altra inquadratura della matricola militare 5E36 e praticamente praticamente il G56 che anche questo si sarebbe dovuto chiamare Centauro mettiamola così ebbe dei problemi fin da subito perché la Fiat come dire storse il naso al pensiero di produrre su licenza il DB603A1 perché perché capo commessa per la produzione su licenza avrebbe dovuto essere l'Alfa Romeo eh e questo qui ovviamente a mamma Fiat non stava bene allora comunque sia la Fiat storse il naso ma studiò una modifica al Centauro e creò il primo caccia di quella che avrebbe dovuto essere la serie 6 ovvero sia questo il G56 eccolo qua la matricola la matricola militare 536 allora nel luglio 1943 fu fu ufficializzato l'ordine per due prototipi ovvero sia la matricola militare 536 questa che vi ho già fatto vedere e la matricola militare 537 il primo prototipo volò a Torino il 28 marzo 1944 con il collaudatore Valentino Cus ma oramai si era già sotto l'occupazione tedesca il 25 aprile del 44 il primo G56 fu dannezzato da un bombardamento americano mentre la sorte del secondo G56 non è conosciuta nel dopoguerra si è visto un centauro con gondole alari per cannoni ispano suiza da 20 mm e cofanatura del motore modificata che poteva essere uno dei due G56 costruiti c'è anche la voce secondo la quale la Luftwaffe ripeto si sarebbe interessata concretamente al G55 già da prima dell'armistizio ordinandone tre esemplari ok apparentemente pare si dice sembra perché insomma gli archivi sono andati persi pare che questi tre esemplari da mandare ai tedeschi erano con il motore DB603 uno solo di essi sarebbe stato completato il 3 settembre 43 mentre gli altri due sarebbero stati smontati e i loro motori destinati ai prototipi del G56 le prestazioni del G56 erano molto interessanti perché andava a 685 km orari a 7000 metri saliva a 3000 metri in circa 3 minuti e mezzo a 6000 in 5 minuti e 45 secondi a 7000 in poco più di 7 minuti raggiungeva i 13000 metri di tangenza pratica aveva un raggio d'azione di 580 km circa e un'autonomia di 1280 km insomma il G56 risulta essere la solita grande occasione perduta per la nostra industria aeronautica avrebbe potuto essere un caccia superlativo ma come sempre i limiti strutturali ma anche soprattutto i limiti mentali della nostra industria ne impedirono un rapido sviluppo ripeto i tedeschi fin da subito ci consigliarono di produrre immediatamente il G56 saltando il G55 ma non ci fu niente da fare la Fiat come sempre fece come gli pareva e sviluppò il G55 pur nello stesso tempo insomma diciamoci in un sussulto di buon senso disse va bene il DB603 la capocommessa sarà l'Alfa Romeo però costruiremo che noi il motore quindi costruiremo il G56 col DB603 ripeto il DB603 il il G56 con questo motore da con questo motore da bombardieri ripeto eccolo qua la matricola militare 536 dicevo il G56 era un eccellente era un eccellente bombardiere qualche anno fa in una conversazione che ebbi su Facebook con il grande esperto di aviazione italiana che risponde al nome di Igino Maria Coggi dicevo Igino Maria Coggi mi disse che il G56 era un cazza a dir poco superlativo le prestazioni parlano abbastanza chiare diciamo sarebbe stato probabilmente sicuramente più versatile operativamente rispetto al 109 la cui cellula piccola filante stretta e decisamente claustrofobica per il pilota impediva l'adozione di un motore buono ma grosso cioè di un motore di primo ordine ma troppo grosso per la sua cellula come il DB603 che originariamente era stato destinato ai bombardieri come sempre l'industria italiana non fu in grado di sfruttare questa occasione e del G56 furono costruiti soltanto due esemplari insomma l'ennesima occasione perduta sono noioso quando parlo di questi argomenti è vero ripeto sempre lo stesso mantra dell'occasione perduta è vero ma signori come la vogliamo chiamare avete un altro modo per chiamare per chiamare questo aereo in un altro modo se non occasione perduta eh signori miei che vi posso dire non è mica colpa mia tutto qua quindi io come sempre vi ringrazio tantissimo per l'attenzione come sempre aspetto le vostre considerazioni i vostri commenti e le vostre opinioni sui commenti del video come sempre arrivederci al mio prossimo video e come sempre ciao